Bentornati, oggi facciamo un piccolo assunto di tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi, ovviamente in questo canale, ma tenendo conto anche di altri canali video di youtuber che affrontano le tematiche similari o uguali identiche a queste che affronto io nel mio canale e che comunque resta aperto a qualsiasi commento, confronto da parte di chiunque voglia così porre un quesito o magari voglia invece allargare la visione di ciò che stiamo trattando o inserire anche argomentazioni nuove. A livello generale stiamo parlando di una materia che in Italia è normata e quindi abbiamo a che fare con queste norme, poi come ho detto altrimenti, volte uno può decidere se seguirle o se non seguirle. In questo canale io tendo a così dal mio punto di vista divulgare quelle informazioni che siano aderenti il più possibile alle normative perché queste sono studiate per la sicurezza alla fine delle persone, poi ci saranno anche altri fini, però da quel punto di vista diciamo le tralascio un po' perché a me interessa più che altro una questione tecnica, vedere il perché esiste quella norma, perché è stata studiata e perché poi alla fine deve essere applicata. Alcune volte risulta di difficile comprensione nel senso che sembra quasi non ci sia una logica, un senso, se non quello di così sfruttare sempre i cittadini per spremerli come limoni, che anche questo è vero, però in certi casi questi ragionamenti vengono allargati su una questione di sicurezza che secondo me non hanno tanto fondamento, però ripeto il canale è aperto, Nino può dire la propria. Ci sono ultimamente molti video di persone esperte del settore, ci sono persone che lo fanno a livello diciamo professionale, quindi diciamo youtuber che magari lavorano proprio in questa materia, quindi hanno magari anche una ditta regolarmente registrata e che vendono i prodotti, li pubblicizzano e quindi hanno interesse anche magari in alcuni casi a spingere su certi diciamo prodotti rispetto ad altri. Quello che vorrei dire su questo canale e qui non voglio diciamo così suonarmela e cantarmela da solo, però potete verificare, io non vendo niente quindi non che questo sia una prova del fatto che qui si cerchi di dire un po' la realtà delle cose senza spingere per una cosa o per un'altra, però io diciamo su questo canale non vendo nulla, non troverete neanche un fusibile in vendita, nulla, proprio perché voglio avere la libertà di dire quello che voglio senza che ci siano sospetti vari di spingere per una cosa o per un'altra. Assolutamente no, questo ve lo posso garantire, sì certo ognuno di noi, anche di voi diciamo, ha un proprio lavoro, quindi non è che per il fatto insomma che una persona abbia un dato lavoro e quest'ultimo non possa parlare di quella materia perché automaticamente verrebbe considerato come parte che ha interessi e quindi si pensa che questa persona parlerà solo per tirare la quale proprio mulino. No, ognuno può avere un pensiero su qualsiasi cosa, dirla tranquillamente e fino a prova contraria, ripeto fino a prova contraria, non credo che debba essere tacciato di avere interessi in merito anche se il suo lavoro, anche se lo fa da un punto di vista professionale, come chi lo fa da un punto di vista amatoriale, col fai da te, che comunque propina certi prodotti che come sapete bene io ritengo in base a alcune normative non aderenti a ciò che dovrebbe essere fatto in Italia, però liberi di farlo, ci mancherebbe. Poi un altro piccolo appunto, prima di iniziare questo breve video, spero che sia breve, è quello che ci sono tante persone che YouTube danno spiegazioni, lo fanno in buona fede, sono persone serie, tutti quanti sbagliano, sbaglio anch'io, chiunque sbaglia, poi ci sono quelli che magari con molta saccienza, con molta presunzione, danno delle informazioni prendendo un po' tutti da stolti, per non dire altro, perché magari sono rimasti 3-4 giorni a leggersi una norma, quindi ce l'hanno adesso nella loro testa ben chiara e non è che la ripresentano agli spettatori in una maniera divulgativa, tranquilla e serena, no, la divulgano dicendo voi non capite niente, siete dei tira fili, non capite nulla, la norma dice questo, ma ragazzi, ma questo è un discorso che si può fare, lo può fare chiunque di noi, cioè se io mi dovessi leggere una norma in questo momento, che anche queste persone in particolare, magari in quel momento non si sono studiate, potrei dire lo stesso identico di loro, perché nessuno ha tutte le norme nella propria testa, le regolamentazioni, i modi di fare i lavori, quindi è molto facile presentarsi e dire alla platea che è arrivato il genio, che dà le spiegazioni, perché se le studiate, magari da una settimana che se la studia, e fa apparire gli altri come dei personaggi, così, ripeto, stolti per non dire altro, è un atteggiamento che a me non piace, poi ci mancherebbe, a chi piace non c'è problema, però in questa saccenza, per il fatto di conoscere qualcosa, che non viene poi riferita per condividerla tranquillamente con gli altri, ma per dire, guardate come io sono splendido, l'ho appena letta, quindi la so, chiaramente questo non ce lo dirà nel video, questo è un atteggiamento che non mi piace tanto, perché qualsiasi mente, celsa, che voi possiate trovare, lo potreste mettere tranquillamente in difficoltà, facendo una domanda, non riferita a quell'argomento, ma a un argomento fine, che magari in quel momento lui non ha ben presente, e farebbe una figura barbina, come la facciamo tutti quanti noi, è normale, cioè anche una persona esperta di una certa materia, molto esperta, non potrà mai conoscere tutta la varietà della regolamentazione, delle normative, delle leggi, dei decreti leggi, decreti attuativi, tra l'altro sono anche leggi che certe volte vanno in contrasto tra di loro, quindi facciamo un po' le cose con un po' più di umiltà, diciamo, guardate, mi sono studiato queste norme, ve le voglio riferire perché possono essere interessanti, ma non facciamo troppo gli sbruffoni, non facciamo i professori universitari, tanto non serve a niente, dal mio punto di vista, e poi, ripeto, ognuno faccia come vuole, questo è il mio pensiero. Andiamo avanti, volevo fare un piccolo riassunto, possiamo chiamarlo così, di quello che sta accadendo nel mondo fotovoltaico, in questo caso, questo è un video per il fotovoltaico, in riferimento allo scambio sul posto, ritiro dedicato, la convenienza di fare l'impianto, la convenienza di non farlo, cioè perché può essere anche conveniente non farlo, in certi casi, quindi perché sapete, uno, se devo spendere dei soldi e pensare, già sapere che questi soldi li recupererò, eventualmente, in 15 anni, e io magari ho 70 anni, a un certo punto dico, ma chi me lo fa fare, me ne vado al mare tutti i giorni, ho quei soldi per i prossimi 10 anni, qualcosa del genere, quindi sono delle valutazioni che solo ognuno di noi può fare, eventualmente con l'ausilio di un tecnico, ovviamente. L'impianto fotovoltaico, adesso ha avuto un calo enorme dei prezzi, quindi sicuramente, in linea generale, è conveniente, tra l'altro, vi ricordo che qualcuno ha detto su internet che adesso, a fine anno, tutti gli impianti collegati alla rete non saranno praticamente più autorizzati e dovranno essere tutti off-grid, va bene, vediamo i primi di gennaio, se questa cosa si avvererà, non c'è scritto da nessuna parte, come è stato riportato, però vediamo. Io ancora non ho trovato niente, se qualcuno di voi ha notizie in merito, possibilmente con della carta che canta, sarebbe meglio. Lo scambio sul posto e ritiro dedicato, nel 2025, allora intanto questa storia se ne parla da 5-6 anni che devono togliere lo scambio dedicato, scusate, lo scambio dedicato, lo scambio sul posto, per passare al ritiro dedicato. Guardate, io secondo me vi dico una cosa, non ci dobbiamo neanche concentrare troppo su questo discorso, tanto o ritiro dedicato, scambio sul posto, non è che andiamo a prendere queste cifre, questi cifroni, sono dei piccoli importi, poi dipende un po' se faccio molto autoconsumo, se ho le batterie, se non faccio tanto autoconsumo. Comunque, a livello generale, sono degli importi che noi dobbiamo vedere come dei surplus, come un qualcosa in più che ci viene dato. Noi dobbiamo puntare sull'autoconsumo, non c'è niente da fare, non dobbiamo pensare al fotovoltaico come un investimento, diciamo, per lucrare, perché ormai lo sanno anche le pietre, che non è quello il fine, e non ha, diciamo, nessuna logica a pensarlo, perché tanto ormai, noi sappiamo benissimo che in Italia ha lucrare su queste cose, sono sempre i grandi gruppi, sono sempre le stesse famiglie che si fanno le loro leggi, si fanno le loro cose per tenersi incamerati tutti questi soldi. E' ovvio, cioè, è ovvio, siamo in Italia, per cui è ovvio che nessuno va più a pensare che mi devo fare l'impianto fotovoltaico per lucrare.